Potere d'acquisto sempre più ridotto, prestazioni sanitarie carenti e che non consentono agli anziani, cure adeguate e infine la previdenza. I sindacati CGL, CISL e UIL scendono in piazza per chiedere il rispetto dei diritti dei più anziani, dei pensionati. Saranno a Napoli sabato 20 maggio, quando è in programma la manifestazione con cui chiederanno l'ascolto del governo. I motivi della mobilitazione sono stati illustrati stamattina in una conferenza stampa. Noi chiediamo una riforma del fisco equa, chiediamo una tutela dei salari e delle pensioni, perché è sotto gli occhi di tutti che i costi aumentano e che moltissime famiglie non ce la fanno più, non solo a non arrivare a fine mese, ma non ce la fanno neanche a arrivare fino a metà mese. Chiediamo che i posti di lavoro siano sicuri, perché i morti sul lavoro sono sotto gli occhi di tutti i giorni. Chiediamo che siano aumentate le risorse alla sanità. La triplice chiederà al governo la rivalutazione delle pensioni. È iniziato un percorso, già dall'anno scorso, anche probabilmente dal passato governo e quindi continuato con l'attuale governo, di rivalutare appunto le pensioni. Da tanti anni non avveniva questa situazione, insomma, di rivalutarle, perché i pensionati stanno perdendo potere d'acquisto. Infine i sindacati hanno espresso la loro solidarietà agli studenti universitari. Questi giovani universitari che sono sotto le tende a riventicare un sacrosanto diritto, quello che possano pagare un fitto che possa consentirli di vivere fuori sede. Ecco, allora noi sentiamo di esprimere tutta la nostra solidarietà, perché come dicevo nel mio intervento, in quelle tende ci sono figli e nipoti di pensionati che stanno creando il loro futuro. Sono fondamentali strutture dell'Ottato che fanno proteggiata, ma in questi punti...